Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato in occasione del Forum Ambrusetti di Cernobbio ha ricordato la grande capacità di reazione dell'Unione Europea di fronte alla pandemia e alle sue conseguenze sul piano economico e sociale. Una capacità di reazione efficace e tempestiva, la definita Mattarella che ha poi anche aggiunto. Le azioni intraprese sia sul terreno delle campagne di vaccinazione sia sul terreno del sostegno alla crisi sociale e alla ripresa economica confermano la bontà delle scelte effettuate in direzione di una sovranità condivisa a livello continentale. Analogo impegno, ha aggiunto Mattarella, deve riguardare ora il contributo dell'Unione Europea alla causa della pace, dello sviluppo, della sicurezza e della stabilità internazionale. È importante che la globalizzazione dei mercati avvenga contemporaneamente alla diffusione dei diritti per il raggiungimento della piena dignità delle persone in ogni angolo del mondo, di cui la necessità di una politica estera di sicurezza comune, una materia nella quale l'UE si è mossa, sin qui troppo timidamente. Grazie!